Salve a tutti, siamo qui con il mio gruppo, i Bad Muster, e ci volevamo ringraziarvi per l'aiuto che ci avete dato per farci partecipare alla Vicaroc a Via Grande. Quindi tenevamo a dire che ci vedremo tutti quanti l'11, 12 e 13 a settembre, Parco Comunale di Via Grande, Antonio Aniante, e volevamo così ringraziare ogni singola persona che ha messo il mi piace nel nostro video per portarci fino a questo punto. Quindi niente, grazie a tutti quanti, ci vediamo a settembre. Ciao